The Talk Show Amici Life, eccoci, un'altra puntata oggi, caravarta dedicata allo sport, però abbiamo un personaggio molto molto importante, ce lo vuoi già anticipare? Sì, oggi con noi abbiamo Romina Modena, però chi è? E un'altra età parolimpica. E' quindi molto famosa, perché abbiamo già sentito tramite altri media che ci hanno suggerito tutto ciò che ha fatto, ma ce l'abbiamo qui, vediamo se le telecamere le inquadrano, eccola qua, ciao, Romina come va? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, bene, direi bene, a me va molto bene. E' bene anche per noi, perché ci sei, noi ti aspettavamo una campionessa importante così, beh, innanzitutto tu hai un po' di tempo che fai sport a questo alto livello, pensiamo a dieci anni, ce ne vuoi già anticipare qualcosa? Sì, allora, io sì, ho fatto dieci anni di sport paralimpico, dall'anno scorso ho smesso fare sport paralimpico, però allenamento lo farò sempre, perché mi ha aiutato molto a superare questo brutto periodo. E quindi tu, lo sport, questo è importante, lo sport è stato il nutrimento tuo, fra virgolette, perché tu superi questa tua, diciamo, malattia che hai, ce la vuoi anche anticipare un po', perché non tutti sanno che cos'hai, io so per cui sono il curriculum, però non tutti sanno che cos'hai. Certo, allora, sono Romina Modena di Montichiari, nel 2002, dopo aver partorito, entro in coma, coma profondo e poi vigile. Al mio risveglio tutto è impossibile, cioè la mia testa pensa a quello che mi è successo, ma il mio corpo non connette. Da qui ho fatto un momento di riabilitazione durato molto, molto intensivamente, lavorando sul mio fisico e sulla mia personalità. Alla dimissione dalla casa, sono andata a casa con mia figlia, il problema era percepire e prendermi cura di mia figlia Matilde. È stata dura, ma posso dire, io ce l'ho fatta. Cosa dire, come ho intrapreso l'attività dell'embike? Una sera ero a casa e guardando una trasmissione wild di persone che hanno problemi di fisicità, mi sono accorta che c'era un ragazzo che faceva kayak, ha amputato, da lì mi si è accesa una lampadina e ho detto Romina, perché non provi a farlo anche tu? Anche se hai gli arti e non cammini, lui non ha le gambe, provaci. Il giorno dopo sono andata a riabilitazione e con la dottoressa gli ho parlato e lei mi ha messo a conoscenza di questa disciplina paraolimpica, l'embike. L'embike è la bicicletta che si spinge con le braccia, tipo Zanardi, al famoso e strepitoso Ale Zanardi. Ti faccio i complimenti, ecco. Ma facciamo un po' di focus, dopo che tu hai partorito questa bellissima bambina e sei andata a casa con la bambina stessa, non si è ripresa subito, mi sembra. Hai avuto dei problemi psicologici, ce ne puoi questi focalizzare che sono molto importanti. Allora, io quando sono andata a casa io ero depressa, si può dire, è vero. Facevo strani sogni, ero molto depressa, però avevo la luce davanti ai miei occhi e mi faceva reagire, era mia figlia. Mia figlia mi ha dato quello spunto di dire devi farcela e devi lottare perché ce l'avevo sotto gli occhi tutti i giorni. E lei che mi ha dato la voce, lei ha ragione. Logicamente prima di prendere a guardare lei ho dovuto reagire su me stessa, a concepire me stessa perché nel modo di pensare, nel modo di muovermi in casa con la sedia a rotelle che non sapevo neanche cos'era e per me è stata molto dura come del resto noi disabili abbiamo una concezione che è molto tosta nella vita perché siamo stati predestinati penso e abbiamo saputo reagire alle difficoltà che la vita ci mette di fronte. C'è un destino, veramente, si può dire che è accaduto, accadono le cose, a volte accadono senza un perché, a volte sì, però l'importante è reagire ed è ammirevole che tu hai quello che hai fatto perché, ok, prego, prego. Più che altro come ti sei sentita quando sei, sì, ritornata a casa, ma quando quello che facevi prima non riuscivi più a farlo come una volta, ma adesso dovevi tipo cambiare metodi o abitudini e così via. Lavorare, ti ripeto, su me stessa, ho cambiato il modo di farli perché lavare i piatti li lavo, l'unica cosa che non posso fare è giocare a pallone, però in bici ci vado, nuotare posso farlo, è il modo e la concezione del tempo che mi ha aumentata, quello sì, perché se prima ci mettevo dieci minuti adesso ce ne metto cinque, a fare la spesa ci vado, faccio comunque la vita da disabile seduta, ma vivo la vita perché questo è molto importante viverla. Ci sono persone che si pongono dei problemi come lo facevo anch'io una volta per delle cose molto inutili e invece consiglio a tante persone ad andare negli ospedali e vedere le persone che veramente stanno male, perché quando una persona sta male con un dolore che te la trovi di fronte dici quanto è meno doloroso il mio. È questo che ti dà la forza di reagire. E questo è vero, è una cosa molto importante ed è ammirevole sia le tue condizioni e chi è come te, perché ce ne sono altri ancora che hanno saputo reagire anche tramite lo sport. Poi vediamo un po' anche lo sport, io mi sono prego un po' degli appunti così, quindi tu hai ricevuto diversi titoli importanti, campionese italiane, detto prima di linea e crono, campionese europea, ecco parlaci un po' campionessa europea, quindi c'era tutta l'Europa, il mondo intero, a non solo l'Europa, il mondo? Ecco, descriveci un po' questa emozione. Campionessa europea, diciamo che nell'embaio devi fare i passi un po' alla volta, campionessa provinciale, regionale, campionessa italiana e poi mettendoci sempre determinazioni, forza e coraggio arrivano anche i risultati. Ho fatto un percorso di 7-8 gare in giro per l'Europa e mi sono classificata prima battendo diverse persone. Ecco, è stata molto dura perché lì i parametri sono molto alti e vedi il mondo intero praticamente. È stato molto bello però paragonarsi con altre persone, a livello fisico ma anche a livello mentale, perché per me lo so, lo sport dà una solidarietà e capisce anche il mondo di persone degli altri paesi. È fantastico, veramente, anche questo confronto insomma con a livello europeo, a livello mondiale. Poi, oltre al campionessa d'Europa, sei stata campionessa maglia rosa del Giro d'Italia and the Bank, che nessuno sa che esiste, perché dopo ci sono messi Italia, cioè il ciclismo... Potresti spiegare in breve cos'è? Allora, il Giro d'Italia and by Maglia Rosa è un giro che fanno 8-9 tappe in tutta Italia e diverse ogni settimana, ogni mese di solito fanno una località e noi facciamo questa gara a livello proprio in centro, si dipende dai chilometri, quanti chilometri fai? Dipende dalla velocità che uno fa. Il percorso di solito è 4,5-5, più vai forte, più chilometri fai. Ci sono diverse categorie che fanno questo, tetra e para. Tetra ci sono persone che spingono con le braccia, ma non a livello di proprio braccia, a livello proprio di muscolo qui, ecco, che hanno più problemi, nel senso che i tetra non cambiano neanche con le mani, cambiano con la bocca. È ancora più duro. Allora, spiegaci un po' questo fattore, perché è una cosa molto curiosa. Cioè, cambiano con la bocca? Sì. Allora, ci sono due categorie, para e tetra. Io sono para, nel senso che io, tra l'altro, ho la possibilità anche di stare in piedi e fare qualche passo. Invece i tetra non camminano. A mala pena forse si reggono in piedi, ma quasi neanche. Ci sono anche diverse biciclette. Per esempio, la mia è sdraiata per terra, a livello della terra. Altre sono sedute. Poi ci sono gli amputati che invece, come Zanardi, pedalano con le gambe sotto il sedere. Zanardi non ce li ha, però quelli sono altri, H5. Io sono para. I tetra, invece, hanno un altro discorso, nel senso che quando pedalano gli vengono legate le mani con lo scotch. Non cambiano con le dita perché non hanno l'uso delle mani. Cioè, ce l'hanno, ma molto... non ce l'hanno in definitiva. E cambiano col mento. Hanno un cambio e attraverso il mento riescono a cambiare. È una maggior difficoltà perché se uno è dietro e non lo vede, può dargli addosso. Vabbè che c'è la barra di protezione, vabbè tutto. Però può essere problematico per questo. Però loro sono molto più competitivi rispetto a noi. Nel senso che hanno più problemi e lo stesso ce la fanno per raggiungere i loro obiettivi. Questo è molto importante. Sì, è molto importante, veramente. È molto importante, soprattutto. Poi, tra di noi basta uno sguardo e ci capiamo, come gli animali. Noi ci capiamo. Come lo sguardo capisce tutto. La nostra forza è il sorriso. Quando vedi in giro invece le persone manco ti sorridono e manco ti salutano. Però ti salutano su Facebook. Perché il sorriso è vincente e la medicina per migliorare sempre. Bene, questo punto, diciamo in chiusura, perché ci dicono che devono tagliare perché abbiamo raggiunto il tempo massimo. Ti lascio a te la parola per ringraziare tutti i tuoi fan, che adesso ne avrai molti, molti di più. E anche dire dove possono contattarti, su Facebook, Instagram, eccetera. Va bene? Allora, io ringrazio tutta la redazione che mi dà questa possibilità. Io sono su Facebook. Io Instagram non ce l'ho perché sono ancora la vecchia, tra l'altro. Ecco, Instagram non ce l'ho. Sono romina, come la moglie d'Albano. Moden, la città, facile da cercare. Dico solo una cosa. Fate del bene, non si sbaglia mai. Grazie. Chi semina, bene, raccoglie bene. Perfetto. Grazie mille per la tua partecipazione. Grazie. Grazie.